ce li avete chiesti e noi ve li abbiamo portati gli mp5 della Secutor nuova linea della serie mp5 della piattaforma mp5 chiamatela come volete con all'interno una serie di interessanti e importanti features noi li andremo ad esplorare insieme faremo la prova di tiro capiremo se effettivamente questo nuovo mp5 questa nuova serie di mp5 è un acquisto valido o è meglio sorvolarlo sigla riuscite a leggere cosa c'è scritto qui c'è scritto che la maggior parte di voi non è iscritta al canale visualizza i nostri video ma non si iscrive ovviamente è importante iscrivervi al canale controllare quello che c'è linkato in descrizione perché troverete il link del monopoli software shop dove siamo in questo momento negozio di attrezzatura da soft air tattica militare e tanto tanto altro tutto quello che vi serve per divertirvi là fuori quindi mi raccomando dato un occhio in descrizione perché oltre che trovare i link di questi incredibili prodotti trovate anche tanto altro che vi può interessare ok lo fanno per chi di voi non conoscesse Secutor ovvero la compagnia che si occupa di produrre questa nuova serie di mp5 e tante altre cose che abbiamo recensito sul canale è un produttore europeo di attrezzatura da soft air e ha già buttato sul mercato vari modelli molto interessanti ricorderete sicuramente gli astra che abbiamo recensito a profusione quindi che cosa hanno fatto con questi mp5 sono validi qual è la differenza tra questo e qualunque altro mp5 mai prodotto come è successo per gli astra ovvero la piattaforma r15 di Secutor troviamo anche qui tre modelli differenti indicati con numeri romani quindi il modello indicato con numeri romani e in particolare vengono chiamato Virtus quindi Virtus 11 Virtus 3 Virtus 4 non sono andato in ordine perché l'ordine si antepone al caos questo è il Virtus 11 è sempre quello più pimpato tra i vari modelli che Secutor offre qui troviamo un silenziatore già integrato un calcio seghettato che può essere steso senza dover premere un tasto e quindi poi lo troviamo bloccato lì e che poi ovviamente può essere andato ad abbattere bello duro ed è già fornito di un'impugnatura abbiamo un'impugnatura anteriore che ci permette di gripparlo come preferiamo subito dopo troviamo il Virtus 4 come indicato ovviamente qui che è il modello ovviamente per gli amanti dello stile classico o comunque quello un pochino più retro troviamo un'impugnatura classica non troviamo sistema emlock e abbiamo già la torcia incorporata con un remoto incorporato per l'appunto nell'impugnatura possiamo sempre fare l'MP5 slap e troviamo un calcio standard da MP5 infine il modello più classico ovvero il Virtus 3 paramano ovviamente con attacchi emlock quindi un pochino più nuovo calcio come il modello 4 standard e non ci sono altre aggiunte sono veramente molto leggeri questa è una prima cosa che si nota prendendoli in mano perché sono principalmente fatti in polimero l'acciaio è esclusivamente posto all'interno del calcio e del paramano quando questo prevede che sia in metallo come quelli emlock un altro elemento che li accomuna tutti è che ci sia già la slitta superiore per andare a montare il mirino quindi non dovete comprare la parte come sulla maggior parte degli altri modelli e che il caricatore sia mono filare questa è una cosa per me importantissima tutto molto divertente ci sono sicuramente però delle domande che avete se siete stati possessori di mp5 siete interessati ad acquistare un mp5 che sono quelli che io definisco i quality of life quality of life vuole semplicemente dire tutte quegli accorgimenti che rendono utilizzare questo tipo di piattaforma e questo tipo di piattaforma prodotta da sector in maniera semplice e sensata quando andiamo a giocare primo tra tutti l'op up come lo andiamo a regolare è rotativo non è rotativo vediamolo l'op up si regola tramite questo simpatico dentino che può essere spinto avanti e andiamo ovviamente a regolare l'op up continuiamo a trovare la regolazione dell'op up uguale su tutti i modelli e si collega direttamente al prossimo punto ovvero dove vado a mettere la batteria perché ovviamente nel calcio non ho posto nell'impugnatura c'è il motore dubito che la vada a mettere qui dentro perché c'è il gearbox ergo la metto nel paramano l'op up su questo sistema di mp5 è ottimo molto meglio della maggior parte degli altri modelli dove troviamo la regolazione dell'op up all'interno di questo sportello qui che normalmente l'otturatore in quello vero che nel nostro caso non si apre e andiamo sostanzialmente a tirare una linguettina di fianco a il pistone il gearbox insomma le parti lì con questi modelli invece questo problema è pressoché risolto perché torna a dire basta girarlo in una direzione andiamo a regolare l'op up unica cosa che si poteva includere magari era segnare dove effettivamente e quanto stavamo andando a regolare mettendo dei segnetti bianchi lì di fianco però queste sono cose in più il problema in in realtà è quando dobbiamo andare a inserire la batteria all'interno del paramano in questo caso è molto semplice perché ci basta rimuovere il pin qui in alto e andiamo a sganciare il tutto troviamo attacco tamia e cavi in argento molto buono per voi smanettoni agli interni l'unico problema è che quando andiamo a chiudere nuovamente il paramano con la batteria all'interno è facile che lo pap si sposti o essendo appunto esposto possa essere tra virgolette danneggiato quindi ci dovete stare attenti non è una cosa che potete chiudere al brutto cavolo sul modello con emlock troviamo lo stesso sistema ci basta spingere fuori questo perno che è più duro rispetto che il modello col paramano classico o comunque quello con la torcia ti prego esci e ovviamente si va a separare in questo modo sempre stesso tipo di cavetteria in argento molto bello ma spazio all'interno risicatino risicatino allo stesso modo di altre mitragliette dello stesso genere molto più costose tipo mpx questo va detto un altro elemento che va detto però è che essendo questo ovviamente vuoto cioè buca l'unico verdetto è vendicarsi l'altro problema ovviamente cioè problema se vi interessano questo genere di cose è che il paramano emlock essendo ovviamente trafilante fa vedere che all'interno c'è una batteria adesso arriviamo a il punto che per me è più importante di questa recensione e che è anche uno dei fattori che personalmente guardo sempre quando acquisto una replica e che mi ha fatto dire effettivamente questo mp5 forse fa per me il selettore il selettore di fuoco degli mp5 è noto per essere lasso con lasso intendo dire che c'è molto gioco quando andate a spostare il selettore di fuoco sentite che è perfettamente lì quando andate a spostare la posizione questo scatta perfettamente sentite proprio che fa tic molti di voi diranno e chi se ne frega ma io vi dico è molto importante perché quando andate a giocare in cqb e questo tipo di smg le usate principalmente in cqb avete necessità di mettere in singolo e poterla tenere in singolo e non di avere la replica che fa un po' quello che vuole o di prendere contro al selettore andare a sparare in raffica un ultimo punto e poi dopo ci muoviamo a più simpatici argomenti e che come ho detto prima il fucile è veramente iper ultra leggero come mai beh presto detto perché tutto il body è in plastica plastica è il termine ovviamente sbagliato è in polimero però plasticone anche la parte superiore che normalmente questa qui castello superiore che normalmente invece dovrebbe essere in metallo quindi dal punto di vista del realismo ovviamente non è a livelli di altre piattaforme devo dire però che da lontano non si nota e che soprattutto almeno i colori sono rispettati e personalmente fa una gran figura soprattutto quando lo agghindate poi completamente come già detto paramano e calcio sono completamente in metallo perché sentite proprio che è solido e anche quando andate a incastrare nella spalla non ha nessun tipo di movimento ultima nota che secondo me va a ribaltare ulteriormente la situazione che il filetto è un 14 ccv solito per fucili da airsoft ma subito sotto troviamo l'attacco per silenziatore da mp5 quindi comunque potete andarci ad agganciare il silenziatore classico da mp5 ultime note importanti sono sugli interni che noi guarderemo velocemente perché se volete tutte le specifiche interne pippolate le trovate linkate in descrizione così che possiate spippolarvi come dovete un paio di elementi interni molto importanti trovate ovviamente tutte le specifiche chiare che io non sto qua delencarvi linkate in descrizione quindi cliccate su questi bamboli andatevele a vedere se volete saperne di più il grilletto è elettronico il che significa che avete maggiore attività e allunga la vita del fucile perché è un grilletto meccanico tende ad usurarsi ad avere problemi più frequentemente in questo modo invece siete sicuri è un elemento molto importante soprattutto quando sparate in singolo perché pensato per il singolo quindi dove e come utilizzerete principalmente questa mitraglietta troviamo all'interno un gommino maple leaf veramente ottimo per avere tiro di precisione è una canna di precisione da 6.03 non consiglierei di andare sotto soprattutto se poi lo volete modificare quindi a noi è solo una canna che potete tenere vita naturale durante direi che ci possiamo muovere alle conclusioni finali ma prima war age cioè ragazzi eccomi qua allora war age dopo tanto tempo sono stato molto sorpreso quando ho visto i fucili perché sinceramente abituato a sector che faceva e strafaceva sui fucili vedere dei full polimero mi ha fatto davvero pensare superata la botta iniziale le ho presi in mano li ho sentiti sono assemblati in realtà bene li critico per il polimero certo per il polimero da amante delle full metal non posso criticarli ma di fatto conservano benissimo le caratteristiche che si vorrebbero su un fucile quindi si vorreggia ma sto sempre cercando di arrampicarmi quello che non tolera lo pappa a me quello pappi ragazzi non piace non c'è niente da fare non mi piace apprezza che abbiamo tenuto un gear normale un v2 come dichiarato dalla casa ma quello papp secondo me è sprecato su un fucile che comunque sui soldini costa non è regalato come al solito al centro stile di sector sono dei geniacci ti danno un mp5 che è una piattaforma vecchia già vista ma porca miseria riescono a fare il connubio perfetto tra modernità e realismo bellissimo piacere per gli occhi incredibile ma anche lui non è perfetto abbiamo qui il caricatore il caricatore ha questi loghi double face spqr allora sì va bene se è cultor che ha usato il caricatore probabilmente di qualche altra azienda e probabilmente volevi marchiarlo ma inventati qualcosa di più particolare ce l'hai già scritto se pqr innovati quindi caricatore fatto bene il logo rimangono comunque compatibili con tutti i mp5 quindi alla fine poco male altro da dire altro da dire no come al solito seguito alla mia profonda stima anch'io sono un amante di questo stile un po' romaneggiante un po make impero romano great again quante volte pensa l'impero romano nonostante il caricatore con quello che un po fuori posto entra ed esce magnificamente così come poi si ripercuote questa precisione su tutti i dettagli e comandi della replica che sono davvero davvero ben fatti e piacevolissimi all'uso più probabilmente anzi senza probabilmente più lo dico di fucili più costosi come possono essere il cima platinum e parlo nelle tette di giuseppe è ovviamente la prova di tiro ve la facciamo vedere avere su instagram quindi veniteci a seguire su instagram grazie valido non valido troviamo che questo mp5 si introduca all'interno della piattaforma per le soft degli mp5 in maniera perfetta perché va a riempire un gap che era stato lasciato lì alla mercè di chiunque ovvero se guardiamo a tutti gli mp5 che ci sono sul mercato troviamo i più economici ovvero i cima di fascia molto economica che sono veramente non li utilizzerei mettiamola così o dei modelli molto costosi vedi il bolt vedi il tokyo marui che addirittura non si trova nemmeno oppure cima fascia blue line che lì andiamo molto su con delle ottime qualità ma che pesano otto quintali e mezzo secco tor dal canto suo tendenzialmente produce fucile da soft air di fascia alta quindi troviamo per esempio gli astra all'interno di livello vfc livello bolt livello insomma avete capito con questa nuova linea di mp5 invece si posiziona nel mercato intermedio offrendo una replica a costo molto agevolato per chi vuole cominciare per chi si vuole fare un mp5 si vuole fare una mitraglietta per il cqb e gli offre soprattutto un prodotto abbastanza completo sul quale non c'è per forza bisogno di metterci le mani immediatamente su cui dovete avere terrore di utilizzarlo per più di sette volte perché alla fine si va a spaccare qualcosa e infine troviamo qualcosa con un'estetica sua non semplicemente una copia paro paro che non vi dà nulla di nuovo se volete ovviamente un modello perfettamente uguale con le saldature nello stesso posto questo modello ovviamente non fa per voi ma allo stesso tempo stiamo parlando di fasce molto più alte quindi per me è completamente approvato in più potete fare lo slap cioè dai dai perfetto la recensione termina qui io vi ringrazio di essere stati qui con noi in questo stupendo sabato e vi ricordo che i video escono sempre il sabato all'1 e 15 12 e mezzo insomma entro questa fascia oraria vi ricordo inoltre di controllare in descrizione perché trovate i link di questi incredibili mp5 anche del monopoly software shop ovviamente il nostro negozio di software dove potete trovare un sacco di attrezzatura da software a ottimi prezzi altra cosa importante se non ci seguite su instagram fatelo perché potreste starvi per dead vi state perdendo sicuramente degli incredibili contenuti venite a controllare anche il canale secondario dove ci sono temi un pochino più generali e dove vi consiglio cose strane vi ricordo inoltre di venire a seguire anche su tiktok perché facciamo contenuti incredibilmente non cringe esatto siamo su tiktok e non siamo cringe spero qui da red è tutto io vi auguro uno splendido sabato un sacco di partite di soft air e come al solito stay angry ne puoi usare due a chimbo e cioè che problema c'è no 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 no